Un suo cliente doveva restituirgli la somma di 20.000 euro, così per riavere il denaro si è rivolto alla mafia. Il clan Ercolano di Catania infatti avrebbe agito da società di recupero crediti. Questa l'accusa contestata a Salvatore Sinatra, 54 anni, agli arresti domiciliari, socio della Sicil Sole di Mazzarone, operante nel settore dei trasporti. Secondo la Guardia di Finanza, Sinatra avrebbe fatto intervenire la Cosca per esigere un credito di 20.000 euro. Il debitore è stato costretto a fare subito un bonifico di 2.000 euro. Per estorsione aggravata dal metodo mafioso è stato anche indagato il boss Aldo Ercolano, 44 anni, figlio dello storico capo mafia Sebastiano. Aldo Ercolano si trova in carcere dal 14 giugno del 2016 perché coinvolto nell'ambito dell'operazione Brotherhood che ha portato alla luce i rapporti illeciti esistenti nel capoluogo etneo tra esponenti della massoneria, imprenditoria catenese ed appartenenti alla criminalità organizzata. E durante una perquisizione in casa del boss furono ritrovati dei pizzini con annotati importi e nominativi di persone e aziende ma anche fotocopie di documentazione che si riferiva a pratiche di recupero crediti affidate ad Aldo Ercolano. Secondo l'accusa Sinatra, grazie all'opera del clan, era riuscito ad ottenere da un imprenditore e suo cliente la forzata restituzione dei crediti. In particolare è stato accertato che in più occasioni i tre boss con minacce si sarebbero impadroniti dei macchinari e beni strumentali della sua impresa qualora non avesse pagato il debito. L'ordinanza è stata eseguita anche nei confronti dell'ex regente della famiglia Ercolano, Antonio Tomaselli di 52 anni e di Rocco Biancoviso di 51 anni, entrambi già detenuti dal 2017.